L'artista esistenzialista buona serata a tutti, una quartina della serata, una quartina tremendamente intimista è un po' un raccontare, un prendere atto di quello che magari ci capita a Torra, di quello che è diciamo il corpus centrale della quotidianità di sempre e quindi c'è questa quartina che è tremendamente riflessiva, riflessiva oltremodo non puoi respirare con un laccio al cuore, non contaminarti con il preconcetto popolare, rimarrai sempre libero di sognare e di amare chi ti vuole bene veramente assapori i tuoi difetti quasi fossero profiterò dal pistacchio chi giudica continuamente probabilmente non ama guardarsi allo specchio, quindi un finale un pochettino provocatore anche se diciamo il target di riferimento è anche abbastanza un target provocatore io credo che si abbia difficoltà a respirare, a intrattenere diciamo rapporti con gli altri, a socializzare quando hai un laccio sul cuore, quando non riesci a essere te stesso quando ci sono dei contesti specifici, sociali, lavorativi, quello che volete laddove hai difficoltà ad essere te stesso perché poi se capita che tu sei quello che sei, vivi un contesto che fa muro contro muro laddove tutto quello che dicono gli altri, bello brutto ciò che per esso sia io dico anche squallido, è Vangelo lo squallore diventa Vangelo e ciò che proponi tu o dici tu nel tuo piccolo magari anche un piccolo pensiero per certi versi non viene considerato tale e quindi tu che cosa fai? non puoi respirare un laccio sul cuore e tendenzialmente preferisci cambiare strada non contaminarsi oggi è difficile, non contaminarsi nella società non contaminarsi sul lavoro, non contaminarsi in tanti contesti bisogna stare attenti a come si parla nel senso che qualcuno potrebbe capire ma non che qui prendiamo la lab, io parlo di contaminazione rispetto a preconcetti popolani ecco ma soprattutto tendenzialmente chi è abituato a puntarti il dito contro lo farà sempre anche con delle battutine tipo è venuto lui ad aiutarmi, io non ho chiesto niente cioè qui si aiutano le persone, si è educati, si propongono tante piccole cose nel tuo piccolo speri che tante cose vadano nel universo giusto, social, lavorativo, quello che volete sei positivo o propositivo? quantomeno propositivo? dai una mano, sei educato e c'è un contesto che puntualmente ti rima conto ti rima conto forse perché sei antipatico? non lo so ti rima conto forse perché hai fatto qualcosa di più di loro? hai creato qualcosa di più di loro? e ti rima conto perché sono persone frustrate? non lo so, io non riesco a capire il perché ci siano dati contesti però sono sempre più eloquenti e evidenti da un bel po' di tempo a questa parte quindi chiaramente quando riesci a non contaminarti sei libero sei libero di sognare, sei libero di amare diciamo non vai a cozzare con i soliti muri sgretolati con le solide pozzanghere collose io credo che chi ti vuole bene in qualunque contesto social, lavorativo, familiare, quello che volete chi ti vuole bene veramente, soprattutto a livello familiare ma un po' in generale vedi i tuoi rifetti, quasi come se fossi profiterò al pistacchio quindi è molto molto amabile questa quartina chiaramente non è detto che come mi comporti io si devono comportare gli altri non è questo il senso di questo video, attenzione però delle volte si vorrebbe un pochettino di coerenza signori la coerenza non c'è ci sono i preconcetti sai mi hanno detto che tu sei andato a parlare di me con quelle persone mesi fa ancora che siamo a queste storie stupide, squallide, insulse, ridicole, banali e qui potremmo continuare per mesi però persone magari anche che possono essere o laureate o preparate perché non parlo sempre di laureati, neoraureati, meno laureati non significa niente perché poi una laurea o qualche cosa in più per un miglioramento personale ma non è certamente la vita la vita è un'altra cosa signori miei però ci sono queste paroline continue fastidiosissime quasi una rottura di coglioni come si dice reiterata nel tempo e delle volte poi sai due, cinque, dieci volte poi cominciano a infastidire e chiaramente le persone cambiano strada poi ognuno si fa le proprie camminate ognuno fa le proprie chiacchierate a livello sociale ognuno fa i propri sviluppi, i propri contesti a livello lavorativo come meglio crede perché giustamente quando poi non c'è la possibilità di avere a che fare le persone perché le persone magari sono non dico decerebrate ma hanno un cervello piccolo non ascolto oppure credono a qualunque cosa e gli venga appioppato ecco che diventa tutto tremendamente difficile signori miei ecco signori chi giudica continuamente ecco chi giudica continuamente non si guarda allo specchio io credo che chi si guarda allo specchio guarda prima di tutto se stesso i propri pregi, i propri difetti le proprie crepe le proprie sofferenze e se hai delle sofferenze anche qualche crepe io non credo che ha questa voglia di puntare il dito probabilmente queste persone anche con loro stesse non sono minimamente coerenti altrimenti non giudicherebbe l'artista esistenzialista buona nottata a tutti